Ciao carissimi e carissime, benvenuti e benvenuti su Gold Unicorn Art. Allora, la domanda è qualcuno ti rimpiange e ha capito che ama te. Chissà, forse per alcuni di voi c'era anche qualche persona, perché una persona che ha capito che ti ama potrebbe essere perché ha vissuto qualcosa di interiore o ha fatto una scelta magari fra più persone. Andiamo un po' a vedere. Voglio concentrarmi. Qualcuno ti rimpiange e ha capito che ti ama. Voglio concentrarmi di più in questo modo e andare a fare e a sviluppare gli argomenti così. Allora, qui abbiamo proprio il nostro re di coppe con l'asso di coppe, e quindi direi che ti rimpiange con grande tristezza e solitudine, in modo anzi sono uscite così, lasciamo la loro sequenza. Direi che è proprio chiarissimo questo rimpianto, diciamo. Andiamo un po' ad aggiungerci delle carte per capire meglio. Allora, questa persona ti rimpiange molto e con amore anche. Tu eri senz'altro fonte di vita per questa persona. Io adoro l'asso di coppe in tutte le sue rappresentazioni. Quindi probabilmente si è accorto, da quello che vediamo fino adesso, che la tua presenza lo vivificava. Quindi lo faceva sentire vivo. Infatti ha un senso di solitudine, però è stato un bene, probabilmente questo allontanamento, perché qui questa persona ha trovato una luce dentro, che secondo me ha trovato la luce sia in se stesso che anche è rivolta a te, perché la domanda è qualcuno ti rimpiange. Quindi qui abbiamo qualcuno che con grande forza interiore ha avuto il coraggio di affrontarsi per capire che veramente non poteva perderti. A un certo punto questa persona ha incominciato a guardare lontano e ha visto il cielo che si squarciava proprio e attraverso questo cielo ha visto della luce che arrivava e ha visto anche un messaggero che è un segno o una serie di segni che gli hanno proprio fatto capire che stava sbagliando ad allontanarsi. E tutto questo che gli è accaduto ha fatto sì che lui avesse delle verità dentro di lui, capisse delle verità, capisse che il libro della vita lo stava chiamando e gli stava dicendo guarda che questa persona ha bisogno, diciamo, non te che stai guardando, questa persona ha bisogno che tu la guardi. In sostanza non che tu volevi essere guardata, il messaggio che ci stanno dicendo e che qualcosa dentro di lui gli ha detto che era importante per questa persona metterti a fuoco, metterti a fuoco chi eri veramente per lui dentro. Adesso voglio un po' guardare queste che sarebbe, ha capito, che ti ama anche se qui è tutto un insieme, io le ho separate perché avevo già fatto una domanda simile e quindi volevo farla un po' in questo modo, però poi seguo sempre l'intuito del momento. Ecco, qui mi dice che, naturalmente mi dice che appena ha capito questa verità è stato subito meglio, ha subito sentito forza, leggerezza, ha sentito che la sua anima gli diceva questa comprensione ti farà stare benissimo. Allora, vediamo un po', visto che la domanda in questo caso era stanco solo, triste senza di te questa persona, voglio un po' vedere se oltre a queste comprensioni che gli sono arrivate nella vita vera, nella vita quindi non emotiva diciamo, ma nella vita esterna, c'era una scelta da fare. Oltretutto per te non ha solo sentimento, ma anche molta attrazione, molta passione. Ma secondo me potevano anche esserci delle persone, uno o più persone, potevano anche esserci, ma non hanno mai raggiunto l'importanza che hai tu. Però per qualche ragione, forse non per tutti voi che state guardando, però visto che ogni tanto mi chiedete ma non guardi mai la terza persona, di solito la terza persona è sempre meno importante di chi sta guardando, perché io mi concentro sempre sui sentimenti che ha per chi sta guardando, ecco, quindi più noi, voglio darvi anche questo messaggio, diamo importanza all'altra, qualora vi fosse all'altra persona, una terza persona fra noi, chiunque essa sia, un amante, uno fidanzato, una moglie, ma anche un parente, una madre, un genitore, più noi gli diamo importanza, più diventa importante, capite? Quindi noi dentro di noi, non che la persona non meriti importanza, ci mancherebbe, ma noi dentro di noi non dobbiamo fissarci, perché più noi siamo gelosi, in poche parole, più diamo forza a questa gelosia, e quindi, oppure a questo tradimento, qualora ci fosse stato, quindi diamo importanza a questo, stiamo peggio, e vibriamo in quello, quindi diventa più difficile cercare di andare oltre, se invece noi diciamo, va bene, è successo quello che è successo, però io credo nel nostro amore, a tutti può succedere di sbagliare, oppure magari è stata una lezione che dovevamo imparare entrambi, entrambi, oppure la lezione che io devo imparare è avere fiducia in me stessa, perché chi è molto geloso, o chi fa apparire nella propria persona, perché siamo noi che facciamo apparire un'altra, una terza persona, oppure se c'era già, allora siamo noi che abbiamo fatto una scelta dove c'era già un'altra persona, capite? Quindi comunque noi abbiamo accettato una situazione, quindi siamo noi che abbiamo la responsabilità delle nostre scelte, se questa persona a un certo punto è arrivata come improvvisamente nella vita, allora ci sono diversi significati, ma senz'altro la cosa più vera è che noi l'abbiamo fatta in qualche modo entrare, anche per le nostre, entrare nella nostra vita per le nostre insicurezze. Qui comunque la stesa dice che potrebbe anche aver visto altre persone, ma non avevano confronto con voi in sostanza, quindi può aver avuto questa vostra storia, questa vostra conoscenza, un momento di difficoltà, questo senz'altro, un momento di indecisione, però io vedo proprio che tutto è in grandissima ripresa, quindi in grandissima ripresa proprio a livello energetico anche per voi due, quindi questa persona ha proprio capito secondo me che amava te perché anche le forze del divino, le forze del cielo, le forze della legge divina gli hanno fatto capire che era lui che a un certo punto doveva metterti a fuoco dentro il suo cuore. Detto questo voglio ancora andare a prendere un po' delle carte perché voglio vedere anche come sta adesso questa persona verso di te cosa ha intenzione di fare, visto che ha capito tante cose e secondo me se c'era una terza persona l'ha allontanata perché tu sei diventata la persona più importante. Quindi vediamo un po' come sta e che cosa ha intenzione di fare. Allora, devo dire che questa grande illuminazione che ha avuto e che si vede proprio dall'inizio per cui ha incominciato certamente a rimpiangerti perché ha capito che eri dentro nel suo cuore quindi per forza e certamente adesso però che ha capito questa cosa non sta male anzi è come se dicesse ci possono essere dei pericoli senz'altro non dico di no io stesso sono stato seduto sopra sul mio pericolo cioè il pericolo è stato che io potevo non accorgermi di quanto tu eri importante il pericolo che ti avrei potuta perdere perdere dentro di me almeno adesso io ti riconosco come la persona che vale come la donna che amo qui abbiamo una bellissima regina di coppe quindi tu sei proprio la persona che fondamentalmente ha sempre anche amato sempre nei suoi sogni sempre anche mentre forse stava con altre persone quindi questa è la grande presa di coscienza di questa persona quindi ti vede anche come una persona che sa dargli centratura che sa dargli gioia tu sei comunque qui rappresentata anche come una persona amorevole ma anche con una persona che sa rimanere tra gli equilibri anche nelle difficoltà quindi sei veramente secondo me una persona che hai imparato ad amarti ad accettarti e a volerti bene questo stanno dicendo queste carte poi è chiaro che anche tu i momenti di difficoltà li hai avuti hai avuto paura anche tu di perdere questa persona avete avuto paura entrambi di perdervi però secondo me qui le carte stanno dicendo che c'è un ritrovarsi voglio a proposito vedere anche un po' un messaggio per te per te che stai guardando ma anche per voi due ecco qual è il messaggio per voi due qual è la cosa più giusta per voi due ora che questa persona ha capito ma secondo me non sta ancora facendo delle mosse ecco è nella fase di di autorivelazione è contenta questa persona di aver capito questa cosa è come se dicessero supera che spavento stavo per perdere questa persona poi si correrà secondo me anche i rischi magari se eventualmente qualcuno di voi che sta guardando dice non mi interessa più questa persona si correrà anche il rischio di sentirsi dire la porta è chiusa va bene ma non credo che sia il vostro caso da quello che vedo perché secondo me voi siete molto coinvolte da questa persona però è chiaro che un conto è io non ho chiarito dentro di me questo rimpianto l'amore che ho per te invece adesso che ho chiarito questo amore per te mi potrei anche dire di no ma io ora so che l'amore c'è qui ti dice che voi due potete veramente creare il nuovo adesso questa carta l'ho presa per voi due quindi voglio interpretarla proprio per voi due su questa stesa quindi lascia che la mente taccia e la coscienza divina ti riempia che è un po' quello che è successo a questa persona quando a un certo punto si era squarciato il cielo e che è arrivato il messaggio divino perché comunque vogliono dirci anche questa questa carta vuole dirci anche che tu sei la coscienza la coscienza dell'amore la coscienza universale la coscienza dell'uno tu sei l'io sono quindi che sta guardando con amore la vita la vita la nostra coppia vi guardate voi due con amore tutto ciò che la coscienza guarda guarda dal punto di vista dell'amore lo guarda l'io sono guarda con amore ricordatevi sempre che questo io sono è divino dentro di noi il divino che è dentro e fuori di noi tutto è materia divina no quindi la natura gli esseri umani gli animali tutto quindi perché ti è arrivata questa carta perché secondo me voi potete diventare veramente i creatori di voi stessi quindi il messaggio per te che stai guardando è ricordati che tu sei il divino non rovinare tutto con la mente che la mente taccia e la coscienza divina ti riempia perché tu sei venuta o venuto a contatto quello che è successo prima con questa persona con una lezione di vita quindi tutto quello che è successo che però comunque come vedi ha rivelato l'amore che ha questa persona per te ma tutto quello che è successo di non troppo bello apparentemente era una lezione sta dicendo quindi adesso guarda che cosa succede perché qui il cambiamento è in atto quindi andiamo proprio a vedere questo cambiamento questo cambiamento in atto andiamo a vedere questo cambiamento in atto beh il cambiamento assolutamente c'è c'è una fortissima energia che sta andando in un'unica direzione secondo me assolutamente naturalmente ci possono essere ancora delle spine non dico che tutto sarà rose e fiori da subito perché voi vi dovete rivedere e amalgamare uno con l'altro con questo momento di separazione che probabilmente molti di voi hanno avuto ma senz'altro tu avrai di che gioire cioè secondo me tutte e due perché la direzione dove state andando potrà avere queste spine che fanno parte ancora come dicevano prima le carte della lezione di vita che dovevate imparare ma secondo me state andando in una direzione di apertura e di fiducia di danza danza verso la vita e quindi quando si danza verso la vita quando si danza amando la vita amando tutto ciò che è intorno a noi essendo grati per tutto ciò che c'è per noi anche le cose che sembrano non belle ma essere grati ringraziare tutto il cosmo e tutta la manifestazione le cose si risistemano con armonia e secondo me questa persona e tu dove è la regina di coppe ecco questa persona e tu davvero potete danzare insieme state veramente andando in un posto bellissimo quindi l'energia si sta muovendo molto moltissimo guarda in questo momento questa persona non si sta avvicinando perché questo stanno dicendo ma ti sta spiando da un bel po' di tempo cioè da quando ha capito ha compreso l'amore che ha per te ti sta proprio osservando da lontano non ha ancora fatto la mossa che prima o poi la farà tu rimani aperta gioiosa secondo me tu sarai contentissima comunque di questa mossa che farà questa persona nel frattempo prima di vedervi qui questa persona sta guardando proprio nella vostra vita secondo me sa bene cosa state facendo come siete di umore vuole capire tante cose vuole capire tante cose di voi prima di avvicinarvi perché comunque vi ripeto questa persona è dispostissima anche a un rifiuto eventualmente ci fosse l'importante per questa persona che abbia capito ma secondo me voi state comunicando a livello emotivo in una maniera molto forte ti desidera molto lui o lei la persona di cui stiamo parlando ti desidera molto ma è un desiderio molto più emotivo che sensuale benché la sessualità sia compresa qui c'è anche molta attrazione fisica quindi io direi che secondo me il passo questa persona lo fa per adesso no sta ancora guardando ma il passo lo fa e secondo me vi ritroverete in una bellissima fioritura quindi carissimi e carissime io vi ringrazio dell'ascolto a risentirci a presto ciao a tutti grazie a tutti